The Missing Planet dichiara l'aspetto di un mondo riferendoci al mondo sovietico anche visto dal nostro punto di vista post sovietico come conclusione non soltanto di quello che abbiamo chiamato per anni est ma anche quello che chiamavamo appunto l'occidente The Missing Planet è qualcosa che è scomparso ma anche qualcosa che manca la mossa segue un itinerario a ritroso si parte dalle ultime generazioni per arrivare alla fase immediatamente precedente alla perestroica alla fine degli anni 70 quando ancora la galassia artistica dell'arte contemporanea era minoritaria e si chiamava arte non ufficiale. La mossa scandisce di momenti temporali importanti nella storia degli ultimi 30 anni a partire dalla celebrazione del 30 anni della caduta del muro di Berlino nel 2019 alla grande crisi finanziaria del 2007-2008 per poi arrivare al 1990 con l'89 di riflesso l'apertura del mondo occidentale e la prima al museo peci degli artisti russi e quindi l'idea euforica di un mondo libero finalmente di un mondo unito che si riempiva di speranza. Nel 90 la prima volta che gli artisti arrivano sono una novità assoluta e per loro la novità è quella del confronto con un sistema che li accoglie anche per la prima volta. Nel 2007 il mondo è già cambiato radicalmente e la percezione di quel mondo è mutata ed è diventata cupa e nostalgica e ha preso piede la disillusione. Il terzo momento è l'attuale, è un momento di riflessione anche su quello che siamo noi dopo 30 anni avendo perso la sponda, la spalla o il rovescio della medaglia che ha rappresentato il pianeta sovietico. Abbiamo seguito alcune strategie che fanno parte della narrativa di Tarkovsky, il film Solaris. Da un lato questa dimensione futurologica o che potremmo dire oggi retrofuturista e il rapporto dall'altro lato con la storia concreta. In un'envisazione di display, la mia posizione non è a pensare di cosa il Solaris mostra, ma a pensare di cosa sarebbe in una scena, in una scena, durante la filmazione di Solaris. Quindi, in un modo, hai quella promessa, hai quella rappresentazione, ma hai anche la struttura che presenta la situazione, la stagione del film. È come se si trattasse di una stessa narrazione. Abbiamo questa dimensione di un dopo possibile, questa aspirazione del cosmo, la vita negli altri pianeti. e il prima, che è rappresentato invece dalla storia reale, che Kelvin, il personaggio principale, si porta addosso. C'è sempre una sorta di rispecchiamento sostanziale. Snout, è tu? Chris, tu dove sei? Il prima e dopo vengono pensati soprattutto come due momenti in parallelo. Se riusciamo a sostituire questa idea del prima e del dopo con un'idea di potenziale e attuale. Nella nostra narrativa abbiamo pensato che si dovesse partire dal cosmismo, un movimento nato alla fine dell'Ottocento, che poi è stato all'origine anche della rivoluzione d'Ottobre. La sua ideologia viene riproposta oggi come l'idea di immortalità, di risarcimento, di conservazione della memoria. «Vo a imi nerozrucimai energie cosmosa» «Vo a imi istinnej religii, culta predkov» «Vo a imi istinnego sozialnego ravenstwa, означающего «bessmertye dla всех»» «Vo a imi nerozrucimai energie cosmosa» «Vo a imi nerozrucimai energie cosmosa» «Vo a imi nerozrucimai energie cosmosa» «Della rivoluzione di Ottobre e quindi è all'origine della cultura dei Soviet» «per poi invece arrivare al momento in cui questo mondo è finito, terminato» «Quello della perestroica e dell'incontro di questo mondo con l'Occidente». Il passato di cui si parla è la storia di un'idea emancipativa di cui la mostra visita gli scarti e i gap tra qualche cosa che era stato promesso e qualche cosa che non era stato mantenuto, tra una promessa di trasformazione e la realtà invece del collasso. Addirittura entrare in un mondo che già c'era, quindi non un'idea di apertura democratica ma l'introiezione dentro il sistema della cosiddetta democrazia occidentale. La domanda è perché guardiamo al passato. Io la pongo nei miei progetti, non potrò dare la risposta definitiva perché sento che tutta la mia pratica è una serie di tentativi di rispondere a questa domanda. In questo progetto specifico cerco di ripartare a luce le possibilità che erano in passato. Non passato in sé, non come stavano le cose, ma che tipo di possibilità le cose promettevano. Con chi immaginario viveva il XX secolo e dov'è questo immaginario adesso? Iniziazzi 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 è diventata più la fabbrica o il bunker e il terzo capito è diventata l'apartamento. Molta dell'immaginazione era eruputa da queste settimane di appartamenti e gli appartamenti era anche il sito dove l'esistenza insulari permette l'esistenza della storia post-sovietica. Il corpus di opera raccolto dal centropecci nell'area sovietica e post-sovietica è importante perché per la prima volta un museo occidentale ha proposto questo tipo di ricerche all'inizio degli anni 90 perché disegna una geografia dell'arte. Troppo spesso si cerca addirittura di rimuovere o di dimenticare il 9 novembre dell'89 e le sue conseguenze. Nel momento in cui è stato abbattuto un muro se ne sono alzati moltissimi altri. Penso alla trasformazione dell'assetto globale del mondo. Credo che questa mossa ci rinviti a pensare non solo al crollo di un mondo alla fine del modernismo ma al ritorno delle disparità sociali alla fine di un progetto d'emancipazione e all'impegno della cultura come tale dentro il sistema sociale più generale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.